L'esposizione universale a Dubai rappresenterà il primo grande evento mondiale post-pandemico e quindi rappresenterà una occasione impertibile per tutte le aziende di tutto il mondo per potersi ritrovare e sviluppare relazioni interpersonali e relazioni di affari. Tra l'altro il tema di Expo, che è Connecting Minds, Creating the Future, significa connettere elementi migliori del mondo per creare un futuro migliore. Un futuro migliore in termini di sostenibilità, che è il sottotema trasversale a tutto l'Expo, e quindi garantire una mobilità più sostenibile e anche attingere all'opportunità che la tecnologia offre per migliorare la vivibilità delle future generazioni. La presenza dell'Università Cattolica a Expo Dubai è di fondamentale e strategica importanza, perché gli Emirati Arabi Uniti sono uno dei paesi più tolleranti del mondo. Ricordiamo che sin dal fondatore Sheikh Zayed, e poi anche con tutti coloro che l'hanno seguito nella conduzione del paese, il dialogo interculturale con chiunque, indipendentemente da dove provenga e a che religione appartenga, è sovrano rispetto a qualsiasi tipo di relazione, anche rispetto alle relazioni commerciali. Il valore umano negli Emirati è ancora prioritario, quindi prima bisogna instaurare una relazione interpersonale con il proprio interlocutore locale e poi forse scaturiranno anche degli affari, ma certamente anche se questi non scaturissero rimarrà un tesoro nel cuore di ciascuno che è quello di aver trovato un nuovo amico.